Gli operatori ecologici di Canicattì protestano ancora. Un'assemblea sindacale si è svolta oggi e un'altra è prevista per lunedì 27 luglio per discutere di problematiche riguardanti il servizio di igiene ambientale. Le organizzazioni sindacali di categoria lo hanno comunicato al raggruppamento di imprese SEA, Iceda ed Ecoin, titolari del servizio e per conoscenza al comune di Canicattì. L'astenzione dal lavoro dei lavoratori avviene nelle ultime due ore di ogni turno e scaturisce dal timore di ritardi nell'erogazione delle spettanze mensili e della 14esima mensilità. Malgrado l'apertura manifestata dalle aziende che si sono dichiarate disponibili a risolvere l'avvertenza, i sindacati lamentano nulla di fatto. Pertanto le già previste assemblee organizzate la scorsa settimana e rinviate per lo spiraglio che sembrava essersi aperto sono state indette per oggi e per lunedì 27 luglio. Ancora una volta nonostante l'amministrazione abbia regolarmente provveduto a liquidare le fatture, dice in una nota il sindaco di Canicattì Ettore di Ventura, si pavenda il rischio di disservizi nella raccolta dei rifiuti. Per i ritardi delle imprese nell'erogazione del dovuto e propri dipendenti ancora una volta la comunità canicattinese dovrà subirne le conseguenze. Sollecitiamo le parti a trovare una celere e concreta soluzione al fine di evitare di mettere a rischio il decoro e la salute pubblica, conclude il sindaco di Ventura. Ma il raggruppamento temporaneo di imprese SEA, Iceda ed Ecoin che gestisce il servizio rifiuti a Canicattì non ci sta ed interviene con una nota a margine dell'assemblea sindacale degli operatori ecologici. Precisiamo, spiega l'amministratore delegato della SEA Gianni Mirabile, che l'amministrazione comunale di Canicattì deve al raggruppamento di imprese circa 700 mila euro per crediti pregressi. Inoltre, nonostante le tante promesse e i retenati accordi, ancora ad oggi questi soldi non ci sono stati erogati. Siamo ancora in attesa inoltre del pagamento della fattura relativa ai servizi da noi svolti durante il mese di giugno e di conseguenza questo ammanco sta creando un evidente rallentamento nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. Nonostante tutte queste difficoltà, concluso Mirabile, stiamo lavorando per risolvere la situazione e provvedere al più presto al pagamento di quanto spetta ai lavoratori.